Buonasera, un attimo soltanto, 15 secondi, 15 secondi, 15 secondi, ok ma qui ci sono mille, come si fa? 15 secondi, ora sono 10 ormai, siamo in diretta Presidente, eccoci, eccoci qua, Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, Presidente buonasera, ben ritrovato, questa sera grande festa con tutti gli sponsor Viola. Buonasera a tutti, io non sono mai stato qui, un'altra eccellenza di Firenze credo. Che giornata è stata questa? Si lavora, abbiamo fatto una bella cosa per il meglio, sono andato progetti e progetti sullo stadio e dopo che altro vi ho fatto? La squadra, sono stato con la squadra, ho visto che Montello è stato nominato come il più buon allenatore questa settimana, speriamo che non si monta la testa, ok? Io li lascio stare ora, meno male che hanno pareggiato, che hanno fatto una buona squadra, ora sono loro solo, ok? Perché domenica c'è un'altra partita importante. Si deve fare meglio di questo, possiamo fare come la Genova. Senta Presidente, stasera farà un discorso, qui c'è una bella fetta di Firenze, chiederà sostegno, oltre che alla squadra, alla società, ai suoi progetti, perché lei ha detto oggi, ha ribadito, la sua volontà di fare qualcosa per Firenze concretamente, penso direttamente allo stadio, però serve anche il sostegno della città, quindi chiederà anche il sostegno di chi c'è stasera in sala per aiutarla? Si, se mi ricordo dico mandarlo lo faccio, ma purtroppo non mi ricordo quello che devo dire, perché l'italiano mio non è tanto buono. Però quanto è importante che la città la sostenga, in quello che fa lei per la Firenze? Si, ma guarda, lo dico ora, no? Io credo che tutti a Firenze vorrebbero qualcosa di nuovo qui, nello stadio, nel centro sportivo, e così andiamo avanti, come ho detto al primo giorno, no? Ma ci vuole tempo, forse più tempo che immaginavo, ma ci vuole tempo. Lei arriverà anche con il sindaco stasera? Si. No, no, lui starà qui. Non credo che a faccio professionisti qua. Presidente, dal tifoso di calcio italiano, quanto le dà fastidio i fatti degli ultimi giorni che non c'entra Firenze? I tifosi del Verona fanno urlati ai giocatori del Milan, i tifosi del Juventus arrestati. Quanto macchia l'immagine del calcio italiano? Lei che è anche... Si, non è buono, guarda, io ho detto la mia con i pochissimi che hanno fatto cose che non mi piacevano, ok? E un giorno dopo, questo c'è, che sono stato quello del Juventus, forse, infiltrati nei nostri media, nei nostri siti, ok? E i tifosi di noi sono bravissimi, quello che ho visto a Firenze mai in vita mia l'ho visto, voi altri che siete qui dovete essere orgogliosi di questa città e la gente che ci vede qui e noi tutti insieme, lavoravamo tutti insieme, anche i giornalisti, ok? Quando torna Presidente? Che domani riparte. Non so, non so, un giorno alla volta, mi toccano. Grazie Presidente, buona serata.